Un saluto a tutti, draghi, in redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale d'approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti, alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiossalorossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia che riguarda proprio una segnalazione dove un cittadino di Vallefoglia ha voluto fare presente, come ormai da mesi, la situazione all'ex hotel Ida di Montecchio e nelle zone limitrofe vede diversi ragazzi districarsi nei comportamenti illeciti come quello dello spazio. Una situazione che abbiamo fatto presente al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, che ha risposto così. Sentiamo. Ma intanto bisogna mettersi in testa che i giovani ci sono e sono il futuro di questo pianeta. Poi i ragazzi sono, diciamo, anche problematici, nel senso che qui c'è un'immigrazione dall'Italia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia e c'è un'immigrazione dalle altre regioni d'Europa e del mondo, quindi c'è molta vivacità come nelle grandi città, ahimè. E' chiaro che gli organi competenti, cioè la Polizia dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Statale, ma anche, soprattutto, la Polizia Locale, fanno controlli anche con il Covid. Noi abbiamo mantenuto ultimamente aperti i parchi, i giardini, i cimiteri, le piste polivalenti, il ciclo pedonale e questo non vuol dire che non si fanno, diciamo, i controlli. Non ci sarebbe bisogno, per la verità, di fare i controlli se tutti i cittadini, compresi i ragazzi, rispettassero le regole. E' chiaro che ci sono dei luoghi, anche un po', diciamo, lasciati, soprattutto dai privati, molte aziende nel periodo del boom andavano benissimo, quindi erano tutti in ordine. Nel periodo di crisi ci sono dei fallimenti, sono lasciati in abbandono dei beni e quindi diventa più problematico. Mentre il Comune tende a tenere, non dico tutta la perfezione, ma quasi, tutti i beni pubblici, i beni privati vivono un periodo di difficoltà, di crisi economica e quindi molti sono beni abbandonati, altri sono nelle mani dei commissari che fanno i liquidatori. Insomma, è un periodo particolare anche per quel che riguarda questa questione. L'attenzione comunque è costante e continua dagli organi competenti che controllano perché sia rispettata le regole. E sempre a proposito di segnalazioni, la scorsa settimana avevamo parlato di come a Vallefoglio, dopo le numerevoli foto riportate anche sui social e di rifiuti abbandonati, l'amministrazione aveva fatto fronte a questa emergenza confermando che sarebbero stati aumentati i controlli da parte degli enti predisposti. Un aumento dei controlli che però alcuni furbetti non temono, visto che nuovamente questa settimana sono state segnalate, attraverso nuove foto, giunte alla nostra redazione sui social e network, situazioni in cui i rifiuti a terra sono all'ordine del giorno. Tra le zone più gettonate in questo caso sono state quella di Via Ponte Vecchio a Vallefoglia e l'area delle fiume di Montecchio, dove sono state ritrovati i pneumatici di auto e resti di un divano, oltre ad un passeggino gettato addirittura in acqua da alcuni incivili. E questa per la regione Marche è stata la settimana del ritorno in zona arancione dopo oltre 20 giorni di zona rossa. Un ritorno che ha visto protagoniste numerose attività commerciali come ad esempio parrucchieri, centri estetici e negozi di abbigliamento che hanno potuto nuovamente riaprire al pubblico. Vediamo il servizio. In realtà non ce l'aspettavamo perché comunque è arrivata all'ultimo minuto e ringraziamo comunque per questa situazione di riapertura perché per noi è fondamentale, visto che nel nostro settore è stato molto penalizzato nonostante l'estrema sicurezza di questi luoghi dove si entra a suo appuntamento uno alla volta e con tutto il rispetto delle normative igieniche e sanitarie. Speriamo che duri questo e quello che aspettiamo noi come centro estetico perché non rientriamo neanche in quelle categorie che hanno dei sostegni, almeno per quello che abbiamo capito la situazione è un po' questa. Regna il caos ma riusciamo a comprendere anche la particolarità della situazione. Una pandemia non è facile da gestire quindi al contrario di quelli che polemizzano continuamente noi siamo anche abbastanza consapevoli di questa situazione. I clienti come hanno ragito subito hanno telefonato anche nei giorni di Pasqua? Te lo giuro, è verissimo. Difatti abbiamo mantenuto, come abbiamo saputo, che la Regione ha dato il via alle riaperture e abbiamo messo subito nei social la notizia e anche il giorno di Pasqua ci sono arrivate fortunatamente delle richieste per gli appuntamenti. È sempre difficile riaprire dopo un mese di chiusura con tutto quello che comporta, la sanificazione dei locali, le clienti che comunque si perdono e niente, noi ce la mettiamo sempre tutta, siamo un po' stanche perché comunque chiudi, apri, chiudi, apri, non si capisce più niente, speriamo bene, speriamo di poter riprendere al meglio insomma il nostro lavoro. Il lavoro viene svolto tutto su prenotazione con i clienti? Sì, 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 con prenotazione telefonica. Alcuni vengono anche in negozio a chiedere perché non ha il numero di telefono comunque si trova a passare qui davanti, si ferma a chiedere informazioni su come verrà svolto poi il lavoro, quante persone hanno anche paura di trovarsi anche con il negozio magari pieno e comunque adesso non si può più fare quindi siamo sempre con pochi clienti. Il ritorno a lavorare è stato sicuramente positivo in quanto la stagione è appena partita e quindi ci sono anche arrivati tantissimi capi e avevamo appunto bisogno di ritornare a vendere. Soprattutto una situazione dove molte attività potevano restare aperte e molti invece dovevano restare chiuse perché appunto appartenevano a determinate categorie. Assolutamente, questa è una cosa in effetti che ci ha un po' pesato e che insomma mi è dispiaciuto non poter tenere aperto. I clienti sono sempre abbastanza positivi, hanno voglia sicuramente di comprare capi nuovi, di tanto colore, hanno proprio il desiderio di uscire e quindi di anche comprare outfit nuovi. Sicuramente è una nostra speranza nel senso che ritornando anche alla vita e quindi sai anche i bar, aperitivi, ristoranti aperti sicuramente porta degli acquisti maggiori. E sempre per quanto riguarda le segnalazioni, questa settimana ci è stato segnalato da parte dell'associazione Ennale Pesca di alcune anomalie presenti nell'asta fluviale delle fiume Foglia, riguardanti in questo caso le zone di Montecchio, Bottega e Montellabate. In questo servizio l'autore della segnalazione, che ha voluto rimanere anonimo, si spiega nel dettaglio la situazione dell'inquinamento. Vediamo. Noi come associazione sportiva Ennale Pesca, avendo un tratto in gestione che va da Pontevecchio a forse la Fornace Pica, perché il calendario piscatorio dovrà uscire, abbiamo rilevato diversi scarichi fognari lungo il nostro tratto. Scarichi fognari che qualcuno è attivo tutto il giorno, qualcuno si attiva, non abbiamo ben capito in che situazioni. Abbiamo delle situazioni abbastanza anomali anche nei depuratori, per quanto riguarda Bottega e la zona di Osteranova. L'anno scorso, durante il periodo di giugno e luglio, abbiamo rilevato parecchie morti di pesci, carasso, cavedano, qualche carpa. Non sappiamo cosa è la causa scatenante, perché servirebbe un rilevamento fatto da un etiologo, però diamo le cause all'inquinamento. Una situazione riscontratta maggiormente anche in questo periodo, nonostante la zona rossa nelle settimane precedenti voi come associazione potevate comunque svolgere la vostra attività e avete riscontrato di nuovo questo problema. Noi, essendo tesserati agonisti, potevamo, ovviamente rimanendo nel nostro comune, infatti le segnalazioni ci sono arrivate da Vallefoglia, Montalabate. Abbiamo rilevato queste anomalie, cioè acqua in questo periodo prettamente pulita, bella, limpida, in certi punti c'è questo deposito di materiale che non capiamo, ripeto, cosa sia. Che venga da fogne o depuratori, qualcosa nel fiume va, perché vediamo un'acqua blu e queste fasce di materiale marrone non sappiamo cos'è. La richiesta anche di questa segnalazione perché è rivolta? La richiesta, cioè la segnalazione è rivolta a tutti gli enti che siano, non lo so, chi gestisce i depuratori, ma i corpi di polizia, cioè che almeno vigilano, polizia provinciale, forestale, ci servirebbe anche una collaborazione con loro, i comuni, perché i comuni comunque siano tutto dato, penso, in gestione a varienti. La segnalazione è verso di loro, cioè questo servizio è principalmente per quello. Anche perché ci avviciniamo poi nella stagione clou? Adesso il periodo, le piogge iniziano a scarseggiare, il fiume sicuramente si abbasserà e non ci vorremmo trovare una situazione di anno scorso di trovare pisci morti per il fiume, il problema è quello. E la Guardia di Finanza di Pesaro Urbino, in questi giorni, attraverso un'attenta attività di intelligence condotta mediante l'utilizzo delle informazioni acquisite nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha portato all'individuazione di un imprenditore che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2017 e 2018, pur avendo operato nel commercio al dettaglio di prodotti via internet nella zona di Vallefoglia. L'attenta indagine svolta ha consentito di accertare la mancata dichiarazione di 650.000 euro di ricavi per gli anni 2017 e 2018, di qualificare il contribuente come evasore totale e di concludere l'attività ispettiva con le relative contestazioni e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l'emissione dei conseguenti accertamenti. Nell'attuale contesto emergenziale, i presidi di vigilanza attivati dalla Guardia di Finanza confermano il ruolo fondamentale della Forza di Polizia Economico-Finanziaria, costantemente impegnata alla tutela e dalle supporto del sistema imprenditoriale più virtuoso. E dopo le recenti interviste sulle tema biodigestore realizzate alle centrodestra per Vallefoglia e al Movimento 5 Stelle di Vallefoglia, è tornata a parlare l'associazione diversamente riguardo alle ultime attività svolte. In particolare, dopo la richiesta di un incontro da parte delle consigliere comunale Paolo Borlenghi, rivolto all'associazione stessa, a Green Factory e all'amministrazione comunale, Andrea Ricci, membro dell'associazione, si è spiegato come mai l'incontro non è stato fatto. Vediamo. L'attività dell'associazione diversamente continua, continua ininterrottamente. Continuiamo a manifestare la nostra opposizione a questo progetto, al progetto che Green Factory ha presentato per il nostro territorio. Francamente vediamo un muro di gomma di fronte a noi, che sicuramente è una strategia che crede di sfiancarci e di farci spegnere come una candela. Invece ci fa sempre più indignare, e non fa indignare soltanto a noi, ma fa indignare ai cittadini di Vallefoglia, a tutti i firmatari che hanno sottoscritto la nostra petizione, che ricordo sono 5.080, e nella determina 119 del 18 febbraio la provincia di Pesorubino constatava che le firme raccolte erano 5.004, anziché 5.080, comunicate dall'amministrazione comunale. Quindi c'è stato un conferma che le firme erano del territorio di Vallefoglia, ma nonostante questo il silenzio è assordante, quindi nessuno preferisce parola, nessuno degli assessori esprime il proprio parere in merito a questo progetto. Si sono limitati a fare due semplici pagine di osservazioni, firmate poi da un tecnico comunale, quindi nemmeno, secondo me, pensate o scritte di loro pugno, contro le 39 pagine che noi invece abbiamo presentato, depositato di osservazioni a dimostrare il fatto che questo progetto presenta innumerevoli lacune. Quindi diciamo che questo silenzio, oltre a essere irrispettoso, non tanto nei confronti dell'associazione, quale sicuramente siamo visti dei disturbatori, ma nei confronti dei cittadini, evince sicuramente che c'è una volontà politica di portare avanti questo progetto. E quindi è giusto dare una paternità a questo e l'unico responsabile di tutto ciò è il sindaco Palmi Rucchielli, che tutta questa mega operazione di informazione nei confronti di informazione trasparente nei confronti dei cittadini non l'abbiamo mai vista, non è mai stato fatto un incontro in contraddittorio e sono sempre stati fatti incontri con la proponente, con l'azienda Green Factory, che è marche molti servizi, che ovviamente spiega tutto il processo di progettazione, di realizzazione dell'impianto, logicamente dichiarando che è la panacea di tutti i mali. questo è ovvio, visto gli utili milionari che poi derivano da un impianto come questo. Qualche settimana fa il consigliere del centrodestra di Vallefoglia Paolo Borlenghi aveva invitato Green Factory, amministrazione comunale e la vostra associazione ad un incontro, che poi però non si è tenuto, se ci spieghi un po' i motivi. L'associazione, diversamente, nell'ultima settimana ha fatto delle videoconferenze con i gruppi politici di Vallefoglia e quindi abbiamo incontrato il centrodestra per Vallefoglia, abbiamo incontrato il Movimento 5 Stelle e abbiamo incontrato l'articolo 1. Non possiamo in questa fase rendicontare i vari appuntamenti perché ci manca il quarto appuntamento che è con civici democratici per Vallefoglia, ai quali da oltre un mese abbiamo inoltrato l'APET, ma non abbiamo ad oggi ricevuto risposta. Ho sollecitato personalmente tramite Whatsapp il Presidente del Consiglio Comunale, ma non abbiamo ricevuto risposta. Speriamo che ci dia un incontro quanto prima, così possiamo rendicontare gli incontri fatti. Riguardo la richiesta del centrodestra e quindi di Borlenghi, abbiamo motivato nell'incontro che abbiamo fatto che non c'è nessun problema a fare un contraddittorio, però il signor Borlenghi chiede l'utilizzo di tre tecnici e tre tecnici comunque sono persone professionali che richiedono comunque un costo e quindi dovevamo capire perché voleva tre tecnici e chi sosteneva il costo di queste persone. E per quanto riguardi il nuovo teatro che sarà realizzato a Bottega, alcuni cittadini si sono domandati in questi giorni come mai fossero state tolte le transenne che rappresentavano l'inizio dei lavori. Una domanda alla quale ha risposto il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, che si è soffermato sulla realizzazione del nuovo teatro a Giovanni Santi facendo anche il leppunto su come stanno andando i lavori di realizzazione del nuovo comune a Montecchio. La risposta è che intanto creavano problemi i ragazzi, i bambini, alle scuole ed erano più un elemento di pericolo che altro. La seconda è che avevamo già una ditta che ha vinto la gara solo che essendo impegnata nel terremoto ha rinunciato, quindi stiamo proseguendo con la gradatoria per affidare i lavori e fare iniziare i lavori del teatro Giovanni Santi che dovrà essere realizzato un annetto così come per il comune perché la ditta che ha iniziato a fare i lavori del comune ha un anno di tempo per consegnare il comune e per poi spostare tutti gli uffici salvo mantenere nelle colline diciamo alcuni uffici a Colbordo, a Sant'Angelo, nelle zone collinari che intendiamo valorizzare lì sarà l'unica struttura. Il teatro farà parte di una rete culturale che sono i cori, sono le compagnie dialettali, che sono la banda musicale Giovanni Santi tra l'altro il teatro sarà Teatro Giovanni Santi, già intitolato dalla Giunta e sarà diciamo nella rete dei teatri marchigiani presumo nel 2022, probabilmente, primavera prossima se tutto fila liscio dovremmo avere finiti i lavori sia del comune che del teatro è chiaro che entrerà nella rete dei teatri anche il teatrino di Sant'Angelo in Lizzola che sono stati ultimati i lavori adesso con la vicenda del covid, ahimè, è difficile fare anche l'apertura e fare entrare in funzione i teatri e quindi ogni altra attività però insomma a breve entrerà in funzione anche quello di Sant'Angelo in Lizzola poi appena inizieranno i lavori scorrendo la gradatoria della gara d'appalto speriamo di poter iniziare anche a Bottega un teatro di 330 posti intitolato al Padre di Raffaello che dà un tocco all'insieme della vallata nelle attività culturali il progetto è quello che è stato approvato dagli organi competenti e solo la ditta, che era una ditta di macerata che è stata invitata ad iniziare i lavori fortunatamente per loro hanno avuto, diciamo, altri lavori con la vicenda del terremoto sfortunatamente per noi perché era una ditta abbastanza solida e dobbiamo procedere al secondo se accetta il secondo se no dobbiamo procedere al terzo perché c'è una gradatoria nella gara d'appalto e ora concludiamo parlando di sport dopo più di un mese di assenza dai campi di gioco la Megabox Vallefoglia è tornata a giocare ed è tornata subito a vincere la squadra di Cozzo e Fabio Bonafede ha battuto per 3-7 a 0 la Green Warriors Sassuolo e ha ritrovato così morale dopo la dolorosa rinuncia forzata alla semifinale di Coppa Italia prendendosi pure la rivincita contro le Emiliane che poco più di un mese fa avevano vinto in casa loro ora per la Megabox continui le tour de force in vista di questo finale di stagione la formazione bianco-verde infatti nella prossima partita sarà di scena in trasferta a Marsala una trasferta complicata sotto due punti di vista come la forza della squadra avversaria oltre alla lunghezza delle viaggio che attende la Megabox e siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi qua su Rossini TV, canale 633 del Gitale Terrestre vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo il 16 di aprile e vi auguro un buon proseguimento di serata e vi auguro un buon proseguimento di serata e vi auguro un buon proseguimento di serata